Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. È stata presentata in comune la fase anconetana dei campionati europei volley maschile 2023, gruppo A di qualificazione, previsti dal 3 al 6 settembre prossimi al Palaprometeo Estraliano Rossini. Sono quattro i gironi europei che si disputeranno in Italia, Macedonia del Nord, Israele e Bulgaria, con successive finali in programma Roma. Il girone eliminatorio che si disputerà in Italia vedrà lo svolgimento delle gare nelle città di Ancona e Perugia, con la presenza della nostra nazionale, già campione d'Europa e del mondo in carica, la Serbia, la Germania, il Belgio, la Svizzera e l'Estonia. Siamo veramente orgogliosi di ospitare l'Italia, campione d'Europa e campione del mondo in carica, allenata tra l'altro da un personaggio che nella nostra regione ha lasciato tanti segni, sia come giocatore che come allenatore, avendo vinto tutto alla guida della Lube Civitanova che è Fede Giorgi. Ancona sarà quindi protagonista a livello mondiale durante i giorni dell'evento, che verrà trasmesso sui più importanti network televisivi internazionali. Imponenti le misure di sicurezza previste a partire dalla scorta garantita per i giocatori. Per favorire l'accesso al Palace e agevolare la viabilità, l'amministrazione ha predisposto servizi di navette e aree di sosta nei diversi punti del territorio. Abbiamo attivato tutti, protezione civile, polizia locale, insomma sarà una grande festa dello sport, ma deve avvenire tutto nel giusto modo. Misure anche per la sicurezza naturalmente? Assolutamente sì, ringrazio in particolar modo la Prefettura, il Questore e tutte le forze dell'ordine che sono in prima fila da giorni, proprio per garantire un piano della sicurezza a cui partecipa anche la nostra polizia locale. Il Comune di Ancona sarà anche presente con un punto informativo a cura dell'Ufficio Turismo che darà notizie utili per visitare ed ammirare le bellezze culturali e artistico-architettoniche della città. Ancona ha già ospitato in passato delle manifestazioni molto importanti dal punto di vista turistico-sportivo. Questo è un altro evento che ci vede al centro dell'attenzione nazionale e internazionale. Ringraziamo la Federazione Pallavolo per aver scelto la città di Ancona. L'impianto è un impianto all'altezza, per cui siamo sicuri che faremo la nostra bella figura. Grazie a tutti.